Presidente, quali sono i numeri che hanno caratterizzato il lavoro d'aula nel 2023? Partiamo dalle sedute. È stato un consiglio comunale nel 2023 abbastanza vivace, abbiamo lavorato con tutti i consiglieri presenti e abbiamo avuto il numero 23 sedute, di cui tre sono monotematiche. Normalmente facciamo le sedute nella ricorrenza della giornata della memoria e nella giornata del ricordo in collaborazione con l'assessorato alla memoria, mentre il 25 di novembre facciamo una seduta per ricordare la giornata internazionale della violenza contro la donna in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità. Per questa giornata internazionale della violenza sulle donne abbiamo collaborato con le scuole e con gli istituti superiori. Inoltre ci sono stati anche diversi consigli monotematici. I consigli monotematici lo stesso sono sempre importanti, intanto abbiamo avuto il consiglio congiunto con le bambine e le bambine del Consiglio di Fano e abbiamo avuto consigli monotematici sulla costituzione dell'azienda e dei servizi della persona, poi la seduta monotematica sulla sanità e abbiamo avuto delle sedute di consiglio anche per la presentazione e l'approvazione del PRG. Quante presenze hanno garantito i consiglieri? I consiglieri hanno garantito una presenza dell'83% su tutte le sedute. Invece quanti sono gli atti discussi in consiglio? 100 delibere di cui 94 sono delibere e 6 ratifiche, poi in interrogazione da parte di consiglieri sia di opposizione che di maggioranza 41 interrogazioni, interpellanze 20, 7 mozioni e 6 ordini del giorno. Invece per quanto riguarda le sedute delle commissioni consigliari? Poi c'è anche il lavoro da parte dei consiglieri propedevoli ai lavori del bilancio oppure anche per argomenti che possono interessare di discutere insieme nelle commissioni. Abbiamo avuto nella prima commissione 11 sedute, la seconda commissione 21 sedute, nella terza commissione 14 sedute, nella quarta commissione 48 sedute, la quinta commissione 7 sedute e la sesta commissione 6 sedute. Si sta per concludere il mandato dell'amministrazione Seri in vista delle elezioni, lei scenderà in campo, che cosa farà? Vedremo, vedremo, ancora è tutto da decidere, da valutare. Comunque l'impegno è stato un bel impegno, sono soddisfatta anche del lavoro che è stato fatto da parte di tutto il consiglio perché anche col consiglio dobbiamo dare un messaggio alla città anche di educazione e di comportamenti da parte di consiglieri.